Massimo Bitonci, come commenta il discorso di Matteo Renzi? Ho lanciato un hashtag, Renzi il nulla. Abbiamo ascoltato un discorso di un'ora e un quarto, un'ora e venti, ma sinceramente sono rimasto veramente deluso con dei tratti anche quasi imbarazzanti di una demagogia imperante. Ha parlato di tante cose, però nessuna risposta. Sembravano i titoli di un giornale, però all'interno mancava completamente il contenuto. Ha detto qualcosa sull'edilizia scolastica, sul patto di stabilità, però senza dire dove si prendono i soldi, dove si prendono le risorse. Ha parlato anche di migrazione, dicendo che noi dobbiamo adeguarsi e integrarsi con gli altri. Però il concetto per noi è completamente diverso e chi viene da noi deve integrarsi, non il contrario. Moltissimi ragionamenti, però che io insieme anche i colleghi abbiamo valutato campati in aria. Poi quando si parla del pagamento integrale dei debiti della pubblica amministrazione, Carlo Renzi deve dirci come lo fa. Ha detto che lo fa attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti però non può impoverare come fosse un ente pubblico. Questo l'abbiamo chiarito ancora negli anni passati, che ogni pagamento della Cassa diventa debito pubblico nazionale. Quindi una serie di misure e di proposte fatte. La più ridicola, devo dire la verità, e io lo dico da commercialista, è quella di mandare la dichiarazione dei redditi a tutti a casa. Sì, allora noi compiliamo dei dati, li mandiamo allo Stato e lo Stato ci rimanda indietro la dichiarazione di tanto vale farsela. Tutta una serie di proposte, io penso anche un po' a spot, però senza nessuna risposta di carattere strutturale. Ma la cosa peggiore è che non si è parlato nel Nord, non si è parlato anche dei problemi del Sud. Non possiamo nascorderci dietro un dito, i problemi al Sud ci sono e vanno affrontati. Ci siamo aspettati in grandi temi anche nazionali, in grandi temi anche europei. Ha parlato di Stati Uniti d'Europa, che bisogna essere uniti, che non bisogna lasciare il debito pubblico ai nostri figli. Diciamo va bene, dici come? Se ci saranno risposte positive noi le voteremo, ma mi pare che siamo completamente in una fase sconclusionata.